ciao 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 a tutti da svideo sono qua in compagnia di yousef c'è yousef c'è yousef con me e oggi dedichiamo questo video a video a caso ebbene si video a caso oggi compie gli anni ti facciamo tanti auguri 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 dunque cosa gli dedichiamo ma 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 facciamo un pezzettino di stambola pizi dedichiamo ok ok no però forse un po troppo viene un po troppo lungo no aspetta aspetta facciamo blitz bufera di neve hanno ma questo no non si può giocare con più amici furia ghiacciata furia ghiacciata o arena di beast quale preferisci arena di beast arena di beast gioca con gli amici allora aspetta e 23 25 31 62 invitami ok 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 lo schermo no era arancione non era rosso se sentite una voce è mio nipote samuele comunque ancora tanti auguri a video caso tanti auguri a video caso tanti auguri a video caso tanti auguri a mister beast disco troppo allora io devo no no sono già morto e ho sbagliato ormai ho sbagliato diamo io sono già morto niente video caso io sono morto subito però ci guardiamo è bravissimo io se vediamo cosa combina io se vediamo cosa combina io se vediamo cosa combina io se non credo che quella non sia una mappa ma molto 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 ma io se non sei caduto ma che è caduto in un punto di qua ma no sto sto sbagliando aspetta dove sei ma non ti trovo video io mi chiamo x e io sempre x no no mi ho scusato stavo guardando un golden jimmy diverso cos'era sto guardando un altro un altro personaggio nel frattempo tanti auguri a video caso tanti auguri a video caso tanti auguri a video caso tanti auguri a te io se si sta sbrucciacchiando tanto ai 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 si sta laserizzando ma non gli piace bravo 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 no niente allora abbandoniamo allora aspetta questa qua adesso tenete ne dedichiamo un altro di partita video e video caso perché questo è stato facciamo un torneo no torneo un ospetto facciamo un blog dash leggendario dai blog dash leggendario facciamo io contro te iussef dai quindi metto due e adesso vediamo allora iussef eccoti vediamo questo 1v1 io contro iussef chi vincerà sempre dedicato a video caso è tanti auguri video caso tanti auguri e la leggenda è se se vinco io se vinco io divento una leggenda ma non dire cose dissocianti perché è un video che viene registrato è questo quindi fa fai bravo lo usamo ma che cavoletti di bruxelles che non so neanche se li mangia iussef lo so non li mangia no ma non li mangia la pizza mangia la pia ieri hanno detto che hai mangiato la pizza con le formiche ma ho trovato un formica io ho fatto un assaggino è delizioso ma che schifo ma mi dissocio non fatelo a caso dai vabbè che dicono che sarà il cibo del futuro però insomma no è delizioso cosa le formiche ma cosa ma adesso ma ma si vede in francia mangiano le lumache ma non ma che lo mangiate anche io ma come sporche lo sapevo lo sapevo va bene e vince iussef bene ancora tantissimi auguri a video caso io ringrazio iussef per questa piccola breve collaborazione di questo video e ciao a tutti quelli che non guardate il video mettete like condividete iussef vuoi dire qualcosa no anzi lasciate like e iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao ok tanti auguri a video caso ciao 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 ciao